Genoa a Roma, Almarassi all'intervallo, è 1-1 Jingle Spot Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141b Fantastico bonus di benvenuto sull'apertura del vostro conto online Al vantaggio di Salah ha risposto l'ex di turno Panagiotis Taxidis Bravo a farsi con Scesni con un diagonale Una bella Roma al momento, si deve accontentare del pari In virtù anche delle molte occasioni sciupate dai giallorussi in zona gol Soprattutto con il Sharawi, autentica spina nel fianco per la retroguardia del grifone Sempre al faraone è stato negato un evidente calcio di rigore intorno al ventesimo Eccellente, fin qui la prova offerta da Kevin Strottman www.pronosticonline.com Tutti i venerdì in esclusiva i pronostici del Mago Alberto Inoltre, help Serie A, help Premier League, help Liga, help Bundesliga Tutte le curiosità, le statistiche, i precedenti e i consigli dei nostri esperti Partita per partita per passare alla cassa Su pronosticonline.com trovate anche i consigli per il fantacalcio di Emiliano Donati Pronosticonline.com vi ricorda che scommettere è vietato ai minori di 18 anni Scommettete sempre responsabilmente